Torniamo invece in territorio bergamasco perché vi vogliamo raccontare dei bagheter bergamaschi con due brani, la lavandina e la bergamasca ovviamente, insomma per dare anche un omaggio alla tradizione del nostro territorio. Il gruppo è una rappresentanza di bagheter bergamaschi con suonatori della Berghem Baguette, la prima banda di Corneluzze Bergamaschi accompagnate dal suonatore storico Carlo Musitelli, appassionato e fondatore di Radio Baguette, una radio podcast per dare maggiore visibilità a questo strumento con approfondimenti che da poco ha intrapreso il mestiere di liutaio. Quindi anche una bella immagine davvero di musica a livello proprio popolare, proprio in questo caso della tradizione che ci ospita, l'applauso è per loro ma funzioneranno insomma per tutti. Vado veloce perché vedo che sono già pronti, questa sera ci presenteranno due musiche tradizionali, la lavandina, segue il ballo di coppia che riprende la mimica di lavare i fazzoletti, stando chine al fosso in modo giocoso, e la bergamasca, una danza invece tradizionale originaria appunto della città di Bergamo. Signori e signori, Baguette Bergamaschi! Applausi! Grazie! 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 Un altro grandissimo applauso anche per questo gruppo, con ovviamente il ricordo da parte della tredicesima rassegna. Grazie!